Ha esordito in televisione nel 1995, conducendo il programma Vivi Roma Television sulle emittenti teleambiente e teledonna. Tra il 2009 e il 2010 è stato ospite di alcuni programmi televisivi, tra cui La Vita in diretta su Rai 1. Rai 3 gli ha dedicato un servizio nel programma Gente di Notte nel 2005. È stato ospite di Simona Ventura nella Grande Notte del lunedì, protagonista in I Dieci Comandamenti, nella puntata dal titolo Arrivederci Roma, il 12 settembre 2015 condotta da Domenico Iannacone. Nel 2008 ha esordito nel cinema nel film Grande. Grosso è, Verdone, cui sono seguiti un'estate al mare. 2008 A Natale mi sposo. 2010 Una cella in due e matrimonio a Parigi. 2011 È editore dal 1989 della rivista Free Press Vivi Roma Magazine.